La Coppa America di Calcio regala risultati inaspettati e clamorosi. Ad esempio la semipinale sarà tra Paraguay ed Argentina. I paraguayani sbattono fuori dalla competizione il Brasile per il risultato di 5 a 4 ai calci di rigure. Dopo l'1 a 1 al novantesimo, vantaggio verde oro con Robinho, il pareggio di González. Proprio lui mette a segno il penalty decisivo. In Brasile si aprono le polemiche per il Cinti Dunga, si prospetta un periodo burrascoso. La formazione paraguayana apponterà l'Argentina che batte con lo stesso esito ai calci di rigure la Colombia. Dopo che i 90 regolamentari si erano conclusi sullo 0 a 0 decisivo, il rigore del bianconero Terrez. L'altra semipinale sarà tra i campioni ed il paese organizzatore, il Cile contro il Perù.